Che cosa centrano le barche a vela con la pandemia? Il legame lo hanno trovato i giovani imprenditori della One Sales di Bussolengo che in questo periodo di ferma per ogni attività all'aperto hanno dedicato le proprie conoscenze e tecnologie per realizzare presidi di protezione. Il plotter al laser che taglia i pregiati tessuti che imbrigliano il vento per condurre gli scafi tra i flutti taglia in continuazione rettangoli destinati a diventare mascherine. Già due settimane fa abbiamo contattato la protezione civile e abbiamo organizzato una produzione di 200 mascherine al giorno da donare alla protezione civile. Siamo arrivati a un totale di 1500, altri nostri colleghi velai hanno aderito a questa iniziativa, con la macchina plotter abbiamo tagliato altre 1800 mascherine spedite al nostro collega di La Spezia che le ha donate alla ASL locale. Stiamo facendo il possibile per aiutare la collettività a uscire da questa brutta situazione. I dipendenti impegnati in questa nuova ed eroica avventura sono stati reclutati su base volontaria ed è così che nascono le mascherine destinate a durare più giorni. La grammatura è più grossa rispetto al materiale solitamente utilizzato e ciò permette di resistere anche a dei lavaggi a 90 gradi. Si possono tranquillamente riutilizzare tre o quattro volte le mascherine lavando a 90 gradi e comunque il prodotto mantiene la sua permeabilità. Sempre grazie alla conoscenza dei prodotti tecnici e al taglio computerizzato sono stati realizzati anche dei camici riutilizzabili completamente impermeabili già consegnati ai reparti di terapia intensiva per essere testati e con risultati positivi. Sia questi sia le mascherine pur avendone le caratteristiche non sono riconosciuti dalla legge. La burocrazia resta un ostacolo molto grosso da sopravanzare. Abbiamo iniziato tutto l'iter per l'autocertificazione e quindi per poter dare anche le mascherine alle farmacie e alla croce rossa e croce bianca. Purtroppo al momento non abbiamo ancora ricevuto delle risposte esaustive e facciamo appello all'autorità di darci una mano a poter procedere nel minor tempo possibile con tutti i test e le prove richieste per l'autocertificazione e quindi poter produrre anche per farmacie e aziende che ne avessero bisogno. Per essere utili a chi è in prima linea e per far fronte comune contro la burocrazia i giovani imprenditori di Bussolengo si sono rivolti ad altri colleghi. Chi ha delle attività che come noi con la vela non c'entrano niente con i dispositivi medici, con le sue capacità, caratteristiche e conoscenze può comunque sviluppare un prodotto all'altezza, un prodotto magari innovativo che possa essere riutilizzato nel pieno rispetto dell'ambiente e nel rispetto dell'emergenza che stiamo vivendo adesso.